eventi e manifestazioni torna via off il talento e loro si incontrano nella quarta edizione del fuorifiera mostre eventi e manifestazioni i vicentini contenti l'importante è rianimare il centro storico ladri acrobati in azione svaliggiano un appartamento rubata l'argenteria bottino 10 mila euro blitz della guardia di finanza ritrovate a foggia 11 mila bottiglie di prosecco rubate a dicembre proposta di rete veneta per carnevale riportare a vicenza i carri e farli sfilare fino a campo marzo benvenuti benvenuti con l'informazione di vicenza avete sentito dai titoli oggi a palazzo trissino si è parlato di vioff e c'è stata la presentazione in pompa magna della prossima edizione con tante novità scopriamole insieme vioff oltre alla fiera c'è di più nome in codice golden factor parola d'ordine quando vicenza diventa vetrina del talento energia idee progettazione un cocktail esplosivo che deflagra nella città del palladio tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio la quarta edizione del fuorifiera di vicenza oro costruisce una materia preziosa si chiama futuro avvicinare i giovani alle industrie e alle aziende che adesso chiedono un certo tipo di skill di una professionalità adeguata che al momento non trovano ma con questo tipo di iniziativa crediamo risolveremo i loro problemi grandi protagonisti i giovani toccherà alle nuove generazioni alimentare il settore orafo con professionalità che oggi vanno costruite il talento senza formazione e nulla per chi è cattolico come me il talento senza formazione qualche cosa che tu vai a seppellire non fai fruttare invece abbiamo bisogno della giusta formazione perché le nostre imprese le più belle quelle che crescono cercano personale qualificato spesso non lo trovano allora bella l'iniziativa dell'assessore giovine con vicenza oro di fare in vioff l'incontro tra le aziende e i ragazzi i veri protagonisti saranno i ragazzi cercheremo di farli innamorare di tutto ciò che ruota attorno al loro l'ingegno la creatività moda e l'uso e già vioff e lavoro formazione si ma anche una grande vetrina sulle tradizioni vicentine da proporre agli studenti e ai 35 mila visitatori provenienti da 130 paesi del mondo crediamo che sia il modo diverso di conoscere la propria realtà la realtà vicentina in particolare in questo caso il palladio il gioiello l'oro le tradizioni culinarie che ci sono in una maniera diretta vioff quest'anno cade nel cinquecentenario della grande impresa di pigafetta il vicentino che raccontò la prima circunnavigazione del globo un convegno racconterà la scoperta dell'altra faccia della terra un viaggio che ha lasciato un'eredità anche di spezie profumi e sapori una rivoluzione culinaria che ha cancellato i sapori insipidi della cucina antica credo che questo sia un ulteriore approfondimento culturale e dove pigafetta è l'autore principale percorsi enogastronomici ma talento e anche arte vioff decolla nella stagione della mostra in basilica palladiana talento e cultura vanno a braccetto l'uno come linfa dell'altra e quindi abbiamo pensato oltre a tutte le attività promozionali della mostra in generale della basilica a due attività particolari una mostra d'arte contemporanea e dei laboratori per promuovere il talento dei bambini proprio a tema con questa edizione vioff dunque questa quarta edizione di vioff di fuori fiera vicenza parte sotto i migliori auspici ne abbiamo parlato con il sindaco di vicenza francesco rucco il vioff è alla quarta edizione è un evento che abbiamo voluto fortemente per collegare la fiera di vicenza la fiera dell'oro in particolare la città la città perché riteniamo che la fiera dell'oro sia un evento internazionale che permetta di conoscere vicenza nel mondo e quindi tutti i buyers ma non solo perché tutti i cittadini saranno invitati a una serie di eventi in città di natura culturale formativa e di spettacolo che renderanno vicenza ancora più bella ancora più viva ecco a proposito di cittadini insomma queste sono eventi manifestazioni che puntano a portare in centro chi viene in città già per la fiera dell'oro e quindi un ulteriore pollo d'attrazione per i turisti per i vicentini insomma proprio per questo i residenti confidano che ci sia la possibilità di rianimare il centro storico sentiamo lì vicentini la città si movimenta in questa maniera beh la fiera dell'oro è sempre stata ottima per vicenza quindi credo che che poi abbiano portato anche in centro per vivacizzare il centro sia un'ottima iniziativa portare turismo portare persone in città stimola tutte le attività gli hotel i ristoranti i negozi stessi commercio quindi tutte le attività che a vicenza sono state fatte comprese le varie mostre in basilica palladiana hanno portato ricchezza a vicenza anzi bisognerebbe farne di più? bisognerebbe farne di più certamente che sono utili portare sempre denaro in ogni caso cioè poi animano un po' il centro? ma secondo me sì anzi bisognerebbe farne di più? ma anche sì perché no? secondo me è utile? ma penso sicuramente certo può rianimare questo centro di vicenza? certo certamente eh mi diceva? c'è bisogno di rianimarlo un po' perché è un po' e quindi questi eventi possono essere utili? cioè V-Off può essere una buona carta? sì penso sicuramente di sì l'idea cioè di avere un po' più di gente di rendere la città più viva con queste manifestazioni? ah guardi credo che una città morta come Vicenza ce ne siano poche e quindi è utile? quindi ci vorrebbe un po' di tutto per avivarla un po' è un bene per la città diciamo so che i ristoranti, i bar, quelli funzionano bene quindi vale la pena ma ha visto un cambiamento? sono state fatte una serie di mostre anche adesso la mostra cioè c'è un... si muove qualcosa? sì sì si muove, si muove effettivamente arrivano più turisti a Vicenza ed è un bene da V-Off alla cronaca adesso con un furto in casa una coppia è stata svaliggiata dell'argenteria a bottino di 10.000 euro tra piatti, vassoie e caraffe sono andati a colpo sicuro i ladri che hanno svaliggiato l'abitazione di una coppia di anziani residenti a Vicenza ladri acrobati che hanno approfittato di una sbarra in ferro che corre lungo la recinzione della palazzina per arrampicarsi fino al terzo piano per poi tagliare letteralmente le tapparelle ed accedere così all'abitazione della coppia che era uscita per la messa i malintenzionati hanno così potuto agire indisturbati sono andati dritti dritti dove probabilmente sapevano avrebbero trovato il bottino, l'argenteria 10.000 euro in vassoi, caraffe, vase e portafiori salsiere, oliere, piatti e piattini di stile San Marco ed altri oggetti ed ora un'operazione della Guardia di Finanza che ha permesso il ritrovamento di un ingente quantitativo di prosecco veneto rubato e che è stato ritrovato in Puglia Un'azienda vitivinicola di Montebello Vicentino si vedrà restituire dalla Guardia di Finanza un carico di 11.000 bottiglie di prosecco servirà a ristorare almeno un terzo del danno subito visto che l'azienda aveva denunciato il furto di 30.000 bottiglie lo scorso dicembre qualora il vino fosse stato immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare quasi 100.000 euro a scoprire la refurtiva gli uomini della compagnia di Foggia che in un'operazione a tutela della correttezza del mercato e il rispetto della concorrenza leale stava controllando l'attività di una sala ricevimenti proprio alla vigilia di Natale i finanzieri, notando l'assenza sospetta di un qualsiasi quantitativo di vino in un locale pubblico proprio in prossimità delle feste scoprivano invece il prezioso carico stoccato in un'area demaniale adiacente al locale sotto un portico coperta da teli il responsabile della struttura ricettiva è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione mentre le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili del furto e mentre giocava in patronato una tredicenne è stata derubata è sparita la busta con il regalo di Natale dei nonni 300 euro che non ha più ritrovato il fatto è accaduto nell'oratorio della chiesa di San Pio X a Vicenza sentiamo va all'oratorio per giocare le sparisce la busta di Natale dei nonni amara sorpresa per una tredicenne che con la mamma era andata all'oratorio della parrocchia di San Pio X a Vicenza dopo la festa della Befana contenta per i soldi ricevuti dai nonni 300 euro li aveva tenuti nel portafoglio in una tasca della giacca che si era tolta però per poter giocare liberamente un'oretta dalle 16 alle 17 di gioco ma quando ha ripreso la giacca la tasca era aperta e i soldi spariti dal portafoglio avvisata la polizia sul posto sono giunti gli agenti che hanno provveduto a sentire i presenti in aiuto per ripercorrere i fatti potrebbero arrivare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'oratorio ancora cronaca antagonisti in azione ad Arcugnano contro la base statunitense nella quale vengono custodite armi e munizioni è stata tagliata la recinzione in un video poi postato sui social la rivendicazione dell'azione di protesta blitz degli antagonisti alla base americana di Fontega di Arcugnano sito militare che custodisce armi e munizioni cappucci calati sul volto per non essere identificati e passa a montagna con i colori dell'arcobaleno un gruppetto di giovani poi firmatisi no war nello scorso fine settimana approfittando del buio della notte armato di cesoi ha preso di mira la rete di recinzione che è stata divelta per alcuni metri non contenti sarebbero entrati all'interno della polvere statunitense per poi allontanarsi dalla zona il tutto è stato documentato in un video che il gruppetto ha poi messo sui vari social la firma no war per rivendicare l'azione di protesta video che ora è al baglio dei carabinieri della SETAF e della DIGOS della Questura da capire come il gruppetto abbia potuto avvicinarsi al sito nei giorni scorsi i vertici militari use al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno avevano disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza per i siti insensibili dalla caserma Eder al Daldin dalla base Pluto all'Ongare al villaggio americano e un deposito di Torre di Quartesolo ed ora vi ricordiamo la possibilità di segnalarci i problemi che vivete ogni giorno problemi che vivete anche davanti a casa vostra noi di Rete Veneta poi li porteremo al vostro sindaco come vedete Vicenza Chiocciola reteveneta.it oppure 351 17 51 8 6 6 canali per poter comunicare con noi e attraverso noi con il vostro sindaco e adesso Rete Veneta lancia una nuova proposta vediamo il Carnevale di Vicenza sono finite le feste natalizie ed è arrivato il momento di parlare di Carnevale Assessore Silvio Giovine con lei l'anno scorso noi di Rete Veneta abbiamo lanciato la proposta di reintrodurre una tradizione vicentina quella dei carri beh l'amministrazione ha mantenuto la promessa con nostra grande gioia ed è arrivato intanto un carro ma era solo un assaggio quest'anno come d'accordo come promesso a Rete Veneta e ai nostri telespettatori farete meglio assolutamente l'anno scorso abbiamo rilanciato questo evento che mancava in città da tantissimo tempo è stato un successo incredibile una grande soddisfazione vedere la piazza piena di famiglie e bambini quest'anno vogliamo rendere ancora più ambizioso il programma e stiamo lavorando già con l'amministrazione di Malo e con la Proloco che si occupa di strutturare questi meravigliosi carri Oh bene queste sono belle notizie però Assessore si sbottoni fa freddo ma si sbottoni quanti carri arriveranno? Non possiamo dare un numero preciso ancora il programma è in via di definizione però possiamo dire che saranno di più io ringrazio anche Rete Veneta per questo stimolo Allora le diamo un altro stimolo Assessore noi di Rete Veneta abbiamo lanciato l'operazione Riprendiamoci Campo Marzio come sanno i nostri telespettatori con riferimento proprio all'origine del il Parco il Campo di Marte quando Vicenza era un orgoglioso municipio romano ecco una festa a Campo Marzio una festa dedicata al Parco della città per riconquistarlo perché non portarci carri? Eh diciamo che vorrebbe dire rendere ancora più ambizioso il programma già estremamente ricco che stiamo elaborando per il Carnevale è una bella idea ci possiamo assolutamente lavorare Guardi suonano anche le campane abbiamo la benedizione io direi che per il momento è tutto ci risentiamo e per quanto ci riguarda la questione non finisce qui ma continua suonano le campane e come vedete vogliamo essere sempre più vicini ai telespettatori noi di Rete Veneta allora dalla tv a internet andate poi su facebook e diventate amici di Rete Veneta Vicenza gli amici di Rete Veneta siete già tantissimi ad aver aderito al gruppo facebook creato per tutti i cittadini che vogliono portare idee proposte e progetti vi ringraziamo continuate a segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi suggerendo le possibili soluzioni noi porteremo la voce della community alle autorità competenti se non lo avete ancora fatto siete ancora in tempo mettete subito mi piace sulla pagina facebook di Rete Veneta poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi quindi cliccate sulla pagina gli amici di Rete Veneta Vicenza una volta dentro andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto quando vi arriverà l'approvazione potrete scrivere commentare e inviarci le vostre segnalazioni perché da noi la televisione siete voi prima di salutarci l'appuntamento con Focus alle 21.15 vi ricordo e con gli ospiti in studio Simone Bontorin Sonia Brescacin Gio Formaggio Antonino Pipitone Riccardo Poletto e Riccardo Scattaretico con questo è tutto grazie per averci seguito arrivederci enjoy the moment nuova Renault Clio tua da 199 euro al mese anticipo zero con nuovo motore TC e 100 inizia la nuova era anche domenica concessionaria Renault Rigoni Franceschetti a Vicenza e Tiene ben trovati al meteo persistono condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo stabile anche nella giornata di mercoledì 15 gennaio e ormai il tasso di inquinamento è davvero alto la situazione nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà piuttosto grigio e coperto da nubi basse e da foschie e nebbie localmente fitte e persistenti che tratterranno lo smog negli strati più bassi dell'atmosfera rendendo così davvero scadente la qualità dell'aria vediamo anche le temperature minime fino a meno 6 gradi massime tra 6 e 7 gradi tempo stabile anche a Vicenza in città ma anche in provincia non sono attese precipitazioni tuttavia la giornata sarà segnata dalla presenza di nubi basse e nebbie un po' per tutto l'arco della giornata dal meteo per ora è tutto buon proseguimento in compagnia di Rete Veneta arrivederci enjoy the moment nuova Renault Clio tua da 199 euro al mese anticipo zero con nuovo motore TCE100 inizia la nuova era anche domenica concessionaria Renault Rigoni Franceschetti a Vicenza e Tiene